Giorgio Giorgio, ti ricordi parecchio tempo fa che ti presentai con le due belle ragazze? Una pionda e una rosta. Mi ricordo, mi ricordo. Andammo a cena e pagai tutto io. Mi ricordo, mi ricordo. Totale 20.000 lire. Me lo ricordo, sì, sì. Poi decidemmo di fare alla Romana. Dieci io e dieci tu. Beh, adesso me la devi ridare. Ma io questo non me lo ricordo. Ciao, Lucio. Oh, ciao. Lucio, ti ricordo. Ah, sì? Come va? Sì, dieci mila lire. Ma no. Sì, quando meritai? Ne ho bisogno. Guarda, oh, che mi proteggo. Oh, ciao Bruno. Come va? Eh, come vuoi che vada. Senza le dieci mila lire che mi hai prestato. Oh, Giancarlo, qual buon vento. Bruno, non ti avevo visto. Eh già. Quando si tratta di restituire dei soldini agli amici, eh? No. Oh, Bruno, proprio te, Giancarlo. Ah, dì. Ti ricordi, sere fa, che abbiamo giocato a Tombola e praticamente io ho vinto 30 mila lire. Ah, aspetta che ci mi ricordi. Allora, facciamo così. Dieci mila lire che mi mandano, me le devi dare a dei miei. No. E queste? Oh, cinque mila lire. Me le faccio bastare. Oh, senti. Due minuti e io te li rimando. Mi raccomando. Sono le ultime e ci devo anche cenare. Facci fuori. Mi raccomando. Allora, questi soldi, quanto ti dovevo? Dieci mila lire. Fabrizio, allora, le mie lire, quanto ti dovevo? Dieci mila lire. Il mio denaro? Quanto ti dovevo? Dieci, ne? Quindi, quanto ti devo? Dieci mila lire. Allora, i miei soldi, quanto ti dovevo? Dieci mila lire. Sti soldi, pronti? Quanto ti dovevo? Dieci mila lire. E il valgente? Eh, chi è il valgente? Eh? Lui, chi è il valgente? Certo. E questo? E questo? Dieci. Oh, insomma. Quanto ti dovevo?